Ciao a tutti amici, sono a Santa Andrea Viquequense, precisamente a Via Raffaele Bosco numero 233, alla Pescheria La Conchiglia. Pensate al mattino pescheria e solo il venerdì e sabato sera si trasforma in un magnifico ristorante dove si gusta un ottimo menù a base di pesce fresco. Insita anche il nostro sito sia www.lacittadiviquequense.it per quanto riguarda l'info il numero 0818799802 Pescheria La Conchiglia dove il pesce è veramente fresco. Tanta bella gente qui alla pescheria La Conchiglia, intanto vi presento la signora. Salve signora, come si chiama lei? Stefania. Signora Stefania, lei è di Viquequense? No, io vengo dalla Puglia, Foggia. E là da Foggia per gustare il pesce della pescheria La Conchiglia? Sì. Cosa di così speciale il pesce della pescheria La Conchiglia? A me mi è piaciuto tantissimo la frittura mista. Quindi il cuoppo? Sì, il coppitello, come dite voi qua. Oh, coppitello! Benissimo signora, quindi un motivo in più per scegliere la pescheria La Conchiglia. Ce ne sono tante di pescherie, quindi un motivo in più qual è? La cordialità, la rapidità, la freschezza del pesce e non so più. Benissimo, io le do soltanto buon appetito, le dico soltanto buon appetito. No, ho già fatto, ho già fatto. Ah, già mangiato, perciò la vedevo così soddisfatta la signora. Grazie signora, arrivederci, buon rientro a Foggia. E io sappia, lei è un'altra foggiana, come si chiama? Daniela. Allora, signora Daniela, anche lei dà Foggia per gustare questo ottimo pesce? Sì, sì, sicuramente, anche perché siamo molto amici di Angela e Nello, che sono speciali per noi. È un bel locale, si mangia benissimo, davvero tutto buono è stato. Il suo piatto, la sua pietanza preferita? Non c'è una pietanza, è tutto buono, davvero, sì, tutto da provare. Tutto buono e fresco soprattutto? Fresco, sì, sì, freschissimo, buono, davvero. Grazie, grazie tanto. Ci ritorneremo sicuramente, anche se ci sono un bel po' di chilometri da fare. Immagino, ma ne vale la pena. Sì. Grazie, buona serata. La pescheria, la conchiglia, è internazionale, una bella tavolata di irlandesi. Ha detto che il pesce qui è buono e fresco, giusto? Sì, 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 sì. Vive il pesce della pescheria, la conchiglia! Hello, salve, you speak English? Yes. Non mi sembra tanto inglese, scusi, ma lei parla anche italiano? Sì, sì. E lo sapevo, quindi un pezzotto orlandese! Allora, lei di dov'è precisamente? Di Vico e Quenze. Ah, ecco, però ha famiglia anche in Irlanda, come già abbiamo conosciuto le due belle signore. Mentre invece lei di dov'è? Io sono di Vico. Vico e Quenze, beh, una parolina da spendere per Vico e Quenze, io la trovo straordinaria. È un bel paese, tranquillo e con gente socivole, piacevole. Bella gente, quindi. Per quanto riguarda invece la pescheria, la conchiglia? Ottima, gradevole! Si vede che è stata gradevole, si vede che è stata gradevole, si vede, si vede. Beh, buon proseguimento allora! Cosa dire? Viva Vico e Quenze! Ciao! Anche due bei ragazzi qui alla pescheria, la conchiglia, come vi chiamate? Samuel. E Roberto. Samuel e Roberto cosa avete mangiato? La cupitiella. Abbiamo mangiato il cupitiello, quindi abbiamo preso un misto di frittura buonissimo, l'abbondanza non vuol dire rinunciare a qualità e gusto, si spende poco e si mangia bene. Ma hai fatto una pubblicità bellissima, complimenti, è in gamba, vero? Beh, o cupitiello com'è stato? Buonissimo. Ecco, quindi o cupitiello della pescheria, la conchiglia è proprio ok! Grazie ragazzi, ciao! E sono in compagnia di uno dei titolari, Aniello, ciao Aniello! Ciao, ciao a tutti! Aniello a gonfie vele, stasera, sabato sera, il pienone! Ma da quanto tempo siete aperti? Sono circa tre anni, circa tre anni che siamo aperti. Bene, ma la vostra specialità, Aniello, qual è? La nostra specialità è il cupitiello, la frittura, la fantastica frittura e la caponata di mare, con tutti i nostri prodotti marinati. Beh, Aniello, parliamoci chiaro di pescheria al mondo, ce ne sono tantissime! Un motivo in più per scegliere la tua pescheria alla conchiglia! Perché ci sono io? No, sto scherzando! Che modestia! Perché il pesce è freschissimo, cioè pesce locale, fresco e di prima qualità. Bene, io intanto ripeto l'indirizzo, noi ci troviamo in via Raffaele Bosco, numero 233, Sant'Andrea, Vichequenze e Napoli per info 081 879 9802. Vi aspettiamo in tanti pescheria alla conchiglia, qualità e garanzia e freschezza! Si vede, no? Si vede, ciao! Eccolo qui, cliente assiduo della pescheria alla conchiglia, salve, come si chiama lei? Maggiorino. Come? Maggiorino, che è un santo normalmente riconosciuto. La Vichequenze è un nome riconosciuto, in tutto il resto d'Italia un po' di meno. E infatti io non sapevo questo santo, sono anche dei beati, quindi prima o poi saranno più santi. Beh, ma questo santo quando viene qui gonfia la sua pancia con l'ottimo pesce fresco della pescheria, la conchiglia. Cosa ha mangiato Maggiorino stasera? Maggiorino ha mangiato il piatto di paccheri imbottiti, poi mia moglie invece ha mangiato i medaglioni di pesce spada, le cozze, alici fritte e calamari fritti, giusto per tenerci in forma. Ecco, giusto, un pranzetto, una scenetta leggera leggera, è un po' calorica direi. Per mantenere la forma. Beh, Maggiorino con la R, vero? Voglio sapere una cosa da lei, da quanto tempo vieni a mangiare qui alla pescheria la conchiglia con sua moglie? Da quando hanno aperto. Quindi da tre anni? Direi di sì. Benissimo, complimenti, devo dire ottima scelta, anche perché tra pochissimo assaggerò anche io qualcosa, e devo dire che dal profumo il pesce è davvero straordinario. Ma dall'odore il pesce è straordinario, figuriamoci gustandolo. Io la ringrazio Maggiorino, arrivederla, alla prossima, e continuate a venire qui alla pescheria. Ma non c'è dubbio. Ciao, grazie. E sono venuta dietro al bancone per guardare cosa stanno combinando Angela, la moglie di Nello, l'altro socio, e la mamma di Nello. Salve, cosa state preparando? Buonasera, stiamo facendo la caponata di mare. In cosa consiste? Signora mi dice anche il nome. Io mi chiamo Lucia. Signora Lucia, in cosa consiste questa caponata? Allora, è un biscotto integrale, sotto c'è un letto di insalata, sopra c'è pomodoro, totani, salmone, alici e alici marinari. Angela, è un piatto molto richiesto dal cliente? Sì, molto, perché è molto fresco. E poi sono tutte cose di produzione nostra. Quindi produzione propria. Beh, ragazzi, io vi faccio i miei complimenti, continuate a lavorare, anche perché la gente qui ce n'è tanta, sabato sera, è davvero piena la pescheria. Quindi in bocca al lupo per tutto e cosa dire? Buon appetito! Mamma mia! Grazie, ciao! Grazie a voi!